Il rammarico di non poter avere figli qui è più forte che mai. Mi dispiace che non ne avremo. Potresti avere un figlio da un altro uomo. Non dirai sul serio? Perché no? Perché no? Perché... perché siamo sposati? Io ho sposato te, Clifford. Perché suggerisci una cosa simile? Mi hai detto quanto vorresti un figlio. Così ne avresti uno da amare, che ti riempirebbe la giornata. Per quanto ne sanno gli altri, io potrei ancora procreare. Se lo crescessimo qui, sarebbe nostro. Stai parlando seriamente? Certo. Non gradirei che ti abbandonassi completamente a quell'uomo. Ma l'atto meccanico del sesso non è nulla in confronto a una vita insieme. Se governerai le tue emozioni, sarà semplice come organizzare una visita dal dentista. Una visita dal... E non ti importerebbe da quale uomo lo avrei? No, mi fido del tuo giudizio. Non ti faresti toccare dall'uomo sbagliato. Dovrà essere discreto. Il nome dei chatterli dipende da questo. Ti aspetteresti che ti dicessi chi è quest'uomo? Meglio non saperlo. Un erade è così importante per te. È importante per le persone di qui. So che puoi farlo per loro e per i chatterli.